Gli Uselandi La caccia, soprattutto quella dell'Uccellagione, è un'antica passione e la presenza della brughiera neanche favorito restendersi. A testimonianza dell'Uccellagione, nei tempi passati esistono ancora alcuni appostamenti delle bersanelle che furono tenute da canonico, ma anche dalle varie famiglie. Alle bersanelle per l'Uccellagione con le reti si sono aggiunti i capanni posticci per l'Uccellagione col fucile, altra caccia che veniva fatta in brughiera ed era quella delle allodole. Serviva da richiamo lo specchietto girevole. Nei tempi passati un buon tiratore ne poteva fare una abbondante raccolta. Un genere di caccia molto divertente, in disuso, era quello con la civetta, richiamo irresistibile per gli uccellini. Molti erano i cacciatori, soprattutto di selvaggina. Era emozionante la caccia alla lepre e alla pernice, ma le sensazioni che si provavano in bersanella, alla passata dei tordi o al capanno, quando gli stornelli in volo pianavano per appoggiarsi alle piante da tiro, così che gli alberi diventarono neri come il carbone. E i cacciatori, appostati, si sentivano mancare il respiro per l'impressione. Erano certamente uniche e incomparabili. È da notare comunque che il maggior numero dei cacciatori dilettanti amava regalare ad amici e conoscenti il ricavato della propria bravura. La passione per la caccia era legata quasi sempre al desiderio di ritornare in contatto con la natura, di vedere albe e tramonti all'aperto, lontano dai frastornanti rumori cittadini, al desiderio di riposare la mente, dal consueto travaglio di ogni giorno. Questi, in fin dei conti, sono gli stessi motivi che ispirano la caccia anche oggi.